Barack Obama, presidente degli Stati Uniti, ha realizzato ben poco del programma che si era dato all'atto della prima sua presentazione all'elettorato americano, ma ai nostri giorni, uscito da uno stato confusionale molto evidente, ha mostrato, forse perché si sente isolato, umiliato, il congresso infatti è in mano ai repubblicani, perlomeno in politica estera ha saputo dire qualcosa che altri presidenti avevano taciuto. Rivolgendosi a Benjamin Netanyahu, il capo del governo israeliano, gli ha detto che gli insediamenti dei coloni in territorio palestinese devono cessare e che l'obiettivo dei due stati israeliano-palestinese è da perseguire. Mai si erano dite queste parole, una lezione anche per le varie comunità ebraiche sparse in tutta Europa, in primo luogo quella di Roma che hanno sempre accettato acriticamente tutto ciò che lo stato israeliano faceva. Bombardamenti, eccidi, perfino hanno tollerato il taglio degli ulivi che sono una risorsa per i palestinesi e non hanno fatto nulla per indirizzare i responsabili dello stato sionista di Israele verso la pace. Io ricordo un caso molto importante, quello di Yasser Arafat, che dopo una vita combattuta in tutti i modi è raggiunta la determinazione che lo stato di Israele esisteva e che quindi era necessario a divenire trattative. Poi hanno messo a tacere tutte le voci che avevano il coraggio di dire certe cose con una vasta pubblicistica. Dieci, cento, mille lavori sull'Olocausto, quando l'Olocausto con la questione palestinese-israeliana non c'entra nulla. Esso fu un fenomeno criminale nazista e non dei palestinesi. Prendono esempio quindi da ciò che intende oggi Barack Obama, cioè di risolvere la situazione, e abbandonino l'idea dei padri fondatori dello stato sionista che pensavano che dopo aver reso la vita impossibile ai palestinesi, essi avrebbero finito per abbandonare quella terra, la loro terra. Non devono pensare che ciò possa avvenire perché i palestinesi sono disposti a morire ma sul loro territorio che gli appartiene. E allora in primo luogo le comunità europee ebraiche operino in direzione della convivenza di due stati. Grazie a tutti.